Benvenuti con un nuovo video, con una nuova sfida qui sul nostro canale E oggi faremo un video linguistico Oltre... linguistico però Oggi faremo un video Allora, cosa faremo? Il video si intitola Non rompere la catena È preso dall'inglese che si chiama Don't break the chain Break the chain Challenge E presente in cosa consiste? Consisterà nel... che ne so Uno deve dire una parola L'altro deve dire un'altra parola subito Che abbia a che fare con quell'argomento Quella cosa, se dico pizza Tu dici pomodoro Io dico crosta Mozzarella Io dico fetta Tonda Ste cose qua Bisogna dire quindi l'argomento che ci abbia a che fare con la pizza Il tutto va fatto molto velocemente Cioè tipo neanche bisogna pensarci Già c'è di aver prontato perché quello ha detto la cosa E chi sbaglia o chi interrompe la catena O chi dice la stessa cosa che ha detto un altro nella stessa catena Si mette una molletta in faccia E continuerà il video così Ecco, tu hai perso adesso Perché non è più detto nulla Quindi vai Stai zitto? No Niente, quindi cominciamo Il primo argomento? Pizza No, vai Dillo te Primo argomento? Oggetto Motore Motore Albero 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 motore Ah, che cazzo Macchina Pistone Gomma Cavalli Iniezione Ma scusa che c'entra? La gomma C'entra Che c'entra col motore? C'è sta la cinta del motore Vabbè la cofano C'entra col motore C'entra col motore Olio Benzina Che sta facendo un sebatale Che inietta nel motore Gas Cazzo Non mi viene niente niente Batteria Testata Oh, la testata del motore Cazzo vuoi Vai Centralina 3 2 1 Rotella Dai, però sono stronzo Sono stronzo che? Albero 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 motore Dai, che tu hai detto ruota Che c'entra il cazzo Io ho detto gomma Non ho detto ruota No, la gomma della cinta Del motore Vabbè Vai Cazzo Io non posso ridere Senta per esaltare la cosa Tipo quelli che ci sono fatti il lifting Capito? Anche qua non è venuta andare bene Quelli che ci sono fatti il lifting Che ci sono fatti il lifting Che se chiuderò a chiesa Per il culo Mai Telefono Cellulare Tasti Che c'entra cellulare e telefono E tu hai detto telefono Vabbè, tasti Schermo Fotocamera Internet Cornetta Numeri Che vuol dire i numeri Numeri del telefono Andiamo a cosa dico pizza Farina Sì E cosa dico acqua H Idrogeno C'è Sì Bene Infatti Va bene H2O Il formaggio Il parmigiano Mi basta il formaggio 2 Aspetta Dove siamo arrivati 1 Microfono 3 2 Display Porco Dolo Ve lo dì Io Schermo L'hai detto prima Schermo No Allora Un po' di display Cioè È diverso Vabbè Timo È diverso Vabbè Volume Cuffiette C'entra Facebook Whatsapp No Hai perso Hai perso Ma che ho perso Dai su Roma Ma che puoi dire Perché l'ho usato prima Dai Sta zitto Io lo metto qua Così appena dico bene le parole Film Pellicola Cinepresa Cinema Attori Popcorn Col film Mi mani le popcorn Coca-Cola E col film Mi mani le popcorn M&M's Io mi mangio i kebab I rizzo Vuoi lasciarla da una volta Sushi Non te mangier su cinema Eh dai Vabbè vai Continua 3 2 Controfigure Attore Già detto Via d'ancuro Regista No via d'ancuro Non puoi sbagliare Vai Tieni Vai Mette d'ancuro Non so dove metterlo Mi sta a fare un male la madonna Non so dove metterlo Oh gliela fai Sta zitto Sono 10 minuti De orologio Che stai a fare Stai a fare Stai a fare Stai Ok Ehm Kebab Salsa piccante Salsa bianca Patatine Insalata Patate piccanti Olive Mais Radicchio Non ho mai visto Radicchio Dentro al kebab Però vabbè Melanzane grigliate Falafel Dentro al kebab Sì C'è stai a fare Dentro al kebab Che si prende il kebab Che si prende il kebab Che ho parlato Il nuovo Che entra il kebab E' uguale Io ho detto kebab Non ho detto kebab Piadina Scusami Scivola Piadina Panino Turkish kebab Certo Cortello Quello per tagliar kebab Non si chiama cortello Ah spatuletta Alla vabbè Il cortello Dai su Carta argentata Forno a microonde Per forno che riscaldano Decidi te Uno dei due Tre Zucchine grigliate Hai già detto Un belanzano Eh ho capito Patatine grigliate Non esistono Eh Sì vabbè Insalata Non l'ha detto Non l'ha detto nessuno L'hai detto De prima Insalata Infatti non vale No Che cazzo fai Aspetta Cioè no Il cazzo Vai Mettete sta cosa Pasta Grano Acqua bollente Spaghetti Pregatone Penne Mezza mani Farfalle Bocatini Amatriciana Ma che cazzo Aglio Parmigiano Burro e parmigiano Che non la finì Non la chiudi Olio E chiudi Olio Dammi tempo Olio Dopor io Saglio Pecorino Tre Due Quattro formaggi Piatto Tre Due Uno Non mi ammette niente Col culo Sono rimasti due mollette Se finisci questa Vinto Occhiali Lenti Nasello Viti Asticella Gradazione Cosa? Gradazione Lenti a contatto C'ha che fa Gocchiali No C'ha che fa Vista Non c'ha Vabbè Montatura Va bene Tre Colorazione De che cosa? Dei lenti Antiriflesso Tre Colore 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 da montatura Hai già detto Dei lenti ho detto Colore del rasello Va bene Adesso io muoio con un rato Che cazzo voi Tre Due Aspetta aspetta Verrà venuta Cazzo Attenzione Verrà venuta È rimasta una molletta E siamo pari Attenzione Attenzione Formighe Formighe Ma Mazza Mi lo mettiamo sempre sul battiscova A mia madre Per vedere Lo vi sono qui Sì Certo Tre Avie Scarafaggi Latte Olè Il vincitore è qua Allora ragazzi Se mi è piaciuto questo video Lasciamo 10.000 like Noi ci becchiamo Al prossimo Come sempre E considerateci qua sotto Una sfida che vorreste vedere Non lo lasciare di challenge Perché fa cagare È una cazzata Quindi ciao Mi sta a fare troppo male il naso Bella Ciao